Ciao Massimo. Ciao Giovanna. Qual è questa sera la tua parola? La parola Irina è il paese ancora qua, è l'Ucraina. La parola Irina è una parola che un collega, un fotografo bravissimo della Societez Press, Yevgeny Malolekka, non potrà mai dimenticare. È un fotografo della Societez Press, a marzo, all'inizio della guerra, si trova a lavorare per la sua agenzia ed è a Mariupol. Ci sono i bombardamenti, la gente continua a morire. Dalla Societez Press ordino a giornalisti e fotografi di tornare indietro perché si sta morendo in quella città. Yevgeny decide di restare perché capisce che restare significa testimoniare per sempre, per quello che succederà, per quello che verrà detto, lui deve restare, deve fotografare perché quello che fotografa resterà come testimonianza, forse in un tribunale, forse in un tribunale che giudicherà i delitti e i crimini contro l'umanità che sono commessi. Si trova fuori dall'ospedale pediatrico dove nella cantina si sono rifugiate le donne incinte che aspettano, che speravano di partorire e invece si ritrovano nella cantina. L'ospedale viene bombardato e Yevgeny fotografa, fotografa una storia, fotografa Irina, fotografa una donna ed è terribile. Forse possiamo vederla quella fotografia. A me quello che ha colpito di quella fotografia è in cui c'è tutto. C'è la distruzione, c'è la guerra, c'è il tentativo di portare in salvo questa donna che è già ferita e guarda gli occhi di Irina, negli occhi di Irina c'è già la morte, lei sa che non potrà farcela e c'è solo un attimo, un attimo nella speranza che quel bambino, quel bambino che porta possa sopravvivere, possa essere la speranza e possa continuare a vivere. Lei muore subito dopo e muore anche il suo bambino. È una storia terribile e la storia con cui Yevgeny ha vinto il massimo premio che c'è per i fotografi, la sua fotografia è diventata uno strumento con cui si continuerà a parlare di guerra e a cercare di punire i colpevoli che uccidono le donne incinte, che uccidono i loro bambini e lui ha detto solo una cosa, ha detto avrei voluto dimenticare, volevo dimenticare ma non è stato possibile, quella storia resterà con me per sempre. Ecco, senti Giovanna, poi volevo sentire anche l'opinione di Agnese, i russi, ci ricordiamo, negarono, ne parlamo anche qua, negarono il bombardamento dell'ospedale. Giovanna, come si distingue, oggi è ancora più difficile con l'intelligenza artificiale, ma come si distingue la propaganda dall'informazione? Si distingue con le persone come Yevgeny, come quei fotografi, quei cameraman, quei giornalisti, quei reporter che sono i nostri occhi e che sono là rischiando la vita, qualche volta perdendo la loro vita perché ci sia una linea rossa decisa per tutti senza dubbi tra la falsità e la verità. Quella fotografia lui l'ha scattata, quella fotografia l'ha portata a rischio della sua vita e quello è quello che è successo. E io credo che sia una cosa davvero importante oggi ribadire che i giornalisti e gli inviati sono la nostra garanzia di verità, non ci sono fake news, non ci sono punti di vista, c'è solo quella fotografia. Se dirigi un grande giornale ti sa quante volte ti sarai trovata dovendo mettere una foto in prima pagina a chiederti, non è che starò facendo il gioco di qualcuno. È sempre molto complicato, soprattutto quando si parla di guerra, perché la guerra è propaganda. La guerra è sostanzialmente propaganda, si fonda sulla propaganda ed esiste, va avanti grazie alla propaganda. Qual è la differenza tra la propaganda e il giornalismo? Il giornalismo è testimonianza e questo è un grande insegnamento anche di Montanelli, scrivere quello che si vede. In questo senso il giornalismo fa testimonianza, scrive, fotografa, mostra, racconta solo quello che vede e magari non è tutto. La propaganda pretende sempre di sapere tutto, è lì che ti accorgi la differenza. Il problema è che bisogna poi consentire ai giornalisti di andare, oggi è sempre più difficile anche arrivare nei posti e vedere di persona. Soprattutto perché il male della propaganda inevitabilmente mette anche, va vagli spesso, all'informazione. Lì dove l'informazione per esempio non è libera, se tu pensi a che cosa succede a livello giornalistico in Russia, ti racconta esattamente il tema di cui stiamo parlando. Cioè lì dove non c'è libertà non ci può essere testimonianza, perché anche la testimonianza si trasforma in propaganda di regime. Di propaganda. Giovanna, ovviamente tu sei una grande inviata, hai fatto per tanti anni gli inviati di guerra, quindi ci tengo a dirlo che le parole che hai detto erano le parole di una persona che ha vissuto quello che racconta. Quindi grazie, come sempre, noi ci vediamo sabato prossimo. Non so in quale punto del mappamondo, ma ci troveremo lì. Grazie Giovanna Botteri.